In questo tutorial vediamo come modellare in modo automatico le coperture di un edificio dall'importazione di un file di .xfdvg appositamente creato per questo obiettivo. Quello che andremo a realizzare è la copertura di questa porzione del nostro modello. Per creare le coperture ci spostiamo nella visualizzazione 2D, scegliamo dal pannello Importa l'icona .xfdvg e dobbiamo andare a selezionare la cartella all'interno della quale è contenuto il file di partenza. Se la cartella non fosse già tra quelle visualizzate nel pannello di importazione possiamo andarla a ricercare tramite questo comando. Una volta visualizzati i file all'interno della cartella scelta, selezioniamo il file che ci interessa e lo spostiamo nell'area di lavoro per trascinamento. A questo punto Termolog mi mostra le impostazioni di importazione. Scegliamo la voce Importa le strutture da questo disegno e clicchiamo su Avanti. In questa seconda schermata dobbiamo scegliere quale strutture far creare a Termolog in modo automatico. Per fare questo dicevamo che il file .xfdvg deve essere preimpostato in maniera opportuna il che significa creare un primo layer che abbiamo chiamato poligono falda all'interno del quale sono contenuti tutti i poligoni delle singole falde e un file di testo, un campo di testo, racchiuso all'interno della polilinea che ne indica l'inclinazione in gradi. Un secondo layer serve per indicare a Termolog qual è il filo di riferimento delle coperture. Selezioniamo quindi il layer che abbiamo chiamato linea di gronda ed infine un'altezza di riferimento per l'impostazione delle nostre coperture. Clicchiamo ancora su Avanti. Termolog mi mostra il riassunto dei layer contenuti nel file quindi il layer dei poligoni e il layer della linea di riferimento. Clicchiamo ancora su Avanti e quindi Importa. Al termine dell'importazione ritroveremo in automatico la copertura con le inclinazioni che abbiamo fornito all'interno del nostro edificio. Grazie. 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 Grazie.